Siamo in un'intervento del progetto Green Change, esattamente siamo all'interno dell'azienda del progetto che vedete. Il corso d'acqua alla mia destra è il posto piracchio. Questo intervento prevede la risa gomatura, infatti il corso d'acqua è piccolo, è abbastanza rettilineo e ha una sponda ancora più verticale, quindi si faranno interventi che serviranno a inclinare maggiormente le sfonghe, a rendere cusci luogo e corso e si ricostruiranno dei popolamenti di vegetazione idrofila e italiana. All'interno di questo piopeto, che è un piopeto realizzato a scopo produttivo, che non è stato mai utilizzato come tale, verrà invece ricostruita una zona umida, artificiale, all'interno della quale verrà fatta passare il reparto dell'acqua nel corso urinico e il piopeto verrà quasi interamente sostituito da un bosco microfilo naturale. Quindi è un intervento che ricrea anche un habitat di interesse comunitario con una serie di infrastrutture verdi che poi verranno gestite direttamente dall'azienda. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.